ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco soia pappa a cosa serve soia pappa un parafarmaco appartenente alla categoria degli creme pastine e preparati per brodi è commercializzato in italia dall'azienda melina spa informazioni commerciali titolare melina spa concessionario melina spa categoria di appartenenza creme pastine e preparati per brodi confezioni soia pappa pappa con frutta 300 g indicazioni soia pappa ha indicato nei casi di allergia alle proteine del latte intolleranza primaria e secondaria al lattosio gallato semia per l'assenza di glutine può essere utilizzato anche in presenza di forme celiache in ogni caso il prodotto deve essere somministrato su indicazione e sotto controllo del pediatra a partire dal 4 a mese compiuto descrizione e caratteristiche soia pappa un alimento a base di riso arricchito con proteine isolate di soia e frutta inoltre soia pappa integrata con aminoacidi essenziali che ne completano il contenuto proteico rendendolo per soggetti intolleranti un valido sostituto delle normali pappe con latte soia pappa arricchita con vitamine calcio e ferro avvertenze una volta aperta la confezione si consiglia di consumare il prodotto entro quattro settimane avendo cura ogni volta di richiudere accuratamente il sacchetto componenti e ingredienti maltodestrine farina di riso oli vegetali proteine isolate di soia 11,8 per cento fruttosio frutta in polvere mela banana pera 8 per cento detrosio calcio carbonato emulsionante lecitina di soia aminoacidi l tirosina l metionina l lisina l volina l triptofano aromi estratto di vaniglia cannella di fosfato ferrico potassio ioduro analisi media per cento g di polvere per cento g di pappa valore energetico cal 447 122 chi 1881 513 proteine g 13,4 3,7 carboidrati g 63,7 17,4 grassi g 15,4 4,2 fibre alimentari g 2,7 0,7 minerali di cui calcio mg 420 115 sodio mg 90 20 vitamine e vitamina mcg 273 75 vitamina d mcg 5,5 1,5 vitamina b 1 mcg 470 130 fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato